Ehi amico, ti sei mai chiesto cosa c'è lì sotto? No, tutti quelli che sono caduti giù non sono mai tornati, quindi non penso sia un bel posto Dai, almeno un po' di curiosità l'avrai di sicuro Curioso di fare una brutta fine? Ora zitto, arriva il capo Ma dove sono... finito Ehi numero 22, tutto bene? Oh no, è stato un volo tremendo Com'è lì sotto? Finalmente l'hai scoperto? È tutto molto diverso e poi è così grande Senti, ce la fai a tornare qui su? Non lo so, vediamo che riesco a fare Ok, provo ad arrampicarmi qui per capire dove mi trovo Fermo, mani in alto No, vengo in pace Tranquillo amico, non sembra uno di loro Ma dici chi sei e da dove vieni Soldatino blu numero 22 al rapporto Vengo dalla mensola sopra la scrivania e sono caduto per errore Ora sto cercando di tornare a casa Visto? Anche lui è un soldatino Dovremmo eliminarlo prima che dica gli altri del nostro rifugio No, i blu non sono mai entrati in guerra Qual è il motivo di tanta segretezza? Vedeli in fondo, quelle truppe in movimento? È da giorni ormai che si combatte L'esercito dei soldatini sta tentando di conquistare le terre che appartengono ai gormiti Noi abbiamo disertato e stiamo scappando dal fronte E potete aiutarmi a tornare a casa? Quel posto è troppo in alto E da queste parti non c'è nulla per arrampicarsi fino a lì Dovresti aspettare che il capo ti rimetta a posto Un'alternativa ci sarebbe Dimmi Ci sono delle navicelle spaziali L'esercito le ha confiscate tutte per la guerra Ma se riesci a procurartene una potrai volare fino a casa E dove posso trovarle? Al fronte Noi abbiamo un'alternativa ci sono del centro